Musica Hola io sono Marcus Cron e bentornati nella Sky Factory ragazzotti Stiamo diventando schifosamente ricchi i beccarozzi dica Molto bene molto bene Prima che si intoppi tutto quanto Che si intoppi Ragazzotti che si intoppi Dobbiamo assolutamente fare una bellissima unione di network Ma non unione vera È un po' una cosa fittizia Come se gli mandassimo per posta delle cose Quello che ci serve è la nostra ender chest di riferimento Che è questa qua Voila E un fuzzi Oh no forse neanche un fuzzi Basta uno storage bus Vediamo un po' Eccolo qua Faccio, 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 faccio Ok No, 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 no Scusi, scusi Me la tocchi la medusa Per chi non avesse visto tutto lo spiegone infinito su questo impianto qua Che va tipo tre volte più efficiente di tutti quelli che hanno fatto chiunque altro Se vedessi la precedente puntata Allora, 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 allora Io adesso vorrei metterla qua Questo ciccio Perché sì Perché sì Senza darvi buone motivazioni Oh ma guarda quanti ce n'erano Caspiterina D'accordo, d'accordo, d'accordo Io comunque ho un fregnetto che serve per memorizzare Oh eccolo, vedi? Vedi che è quando cerchi le cose si trovano Dunque Mi spiego Noi dobbiamo mandare dentro il nostro vecchio impianto Tutte le cose che non intendiamo lavorare Come ad esempio il flint Come ad esempio il certo squartz Come ad esempio il bone meal Come ad esempio il coal Il 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 certo squartz Poder Oddio, mom, mi è entrata in testa sta canzone La glowstone Il La compoder I semi della mia minchia I lapiscazzoli E tutte queste cosette qua Quindi Noi che facciamo? Ci mettiamo dentro Queste cose qui A lui, ok? L'ho detto nel peggio italiano possibile Però va bene, dai Passateci sopra Vediamo un po' se si salva la configurazione No, col cazzo Perfetto Noi ce lo ributtiamo dentro Voilà E Gli salviamo la configurazione dentro Oh, perfetto Ora che significa? Che succede? Che se io metto Queste cose Queste cosine qui No, gli devo impostare una priorità maggiore Aspettate un attimo Oh, ecco qua Se io metto queste cosine qui Lui dovrebbe Dovrebbe Dico dovrebbe No, perché lo ve le metti dentro? Eh, brutto bastardo Ci voleva il fuzzi? Oh, il fuzzi Mib Fatemi vedere un attimo se Magari Così la situazione si sblocca Flint Ok, adesso io la levo completamente Dove dovresti metterla lì dentro? Me lo fai con quegli altri cosi? Perché con questa roba la fai? Brutta bastarda Non vedi l'Underchest Perché non ci ho messo il flint Sono un coglione Ok, adesso dovrebbe funzionare Vediamo un poco Olle Sparisce E va nel nostro impiantozzo Volete una prova pratica? Molto bene Flint Vediamo Vedete che sta aumentando? Non c'è niente Laggiù Laggiù Che gli aumenti il flint E questo impianto Lo manda direttamente qua dentro È come se io gli avessi detto Oh, guarda C'è una cesta che è davvero Molto più figa Di questa cagatina qua E lui lo manda lì dentro Quindi adesso Se noi prendiamo il coal E lo ributtiamo dentro Però dobbiamo levarlo completamente Purtroppo Ecco qua Perché il coal non c'è? Sebbene io Ricordi di averlo messo Beh È un mistero misterioso Coal Lo leviamo Lo mettiamo E lui sparisce Ma È Bellissimo E dobbiamo fare questo Prima che L'ammontare diventi davvero Davvero grande E quindi tipo Ci rompiamo il cazzo A farlo Quindi andiamo di Bonmil Eccolo qua Via Dio Bonmil Poi andiamo di Vabbè Possiamo pure andarla a cercare Ecco qua La Glowstone No la Glowstone Rimane Perché rimane la Glowstone Non lo so La Gunpowder se ne va La Redstone La Redstone se ne va Perché c'era uno spoil bag Lì dentro Ah perché per un secondo L'ha vista qua dentro Ok allora Che cos'è che era rimasto qua Oh gli smeraldi Oh ma i diamanti Ragazzotti I diamanti Imporciance Molto imporciance E gli smeraldi No questo già ce l'ho messo Ok Ciao cane Ce l'hai mancato Mica tanto Lavi scazzuli No i laviscazzuli Oh si I laviscazzuli Se li prende Molto bene Prendiamo anche sti semetti Della mia minchia Che non ho mai usato Praticamente Prendiamo anche questo E E dai Anche questo Ce lo buttiamo Tutto dentro Ce lo insaccagniamo Facciamo così E dovremmo Vederlo Sparire Sparisce Coso stai sparendo Coso 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 Perché tu non sparisci Eh Me lo sei dentro Perché non ti ho messo Non ti ho messo Ma vaffangula Ok Abbiamo quasi fatto Le blaze road Se ne dovrebbero andare Il cacao Se ne dovrebbe andare Perfetto Perfetto Anche il certus quarts Però eh Attenzione Non sono molto certus Di questa affermazione Però Yep Se ne sta andando Se ne va tutto Signori Se ne va tutto Ora però Voglio assicurarmi Che il bastardo Perfetto Perfetto Le altre cose Stanno crescendo Invece Ah no No Il certus quarts No Oh via Stiamo prendendo tutto Il certus Via E buttiamolo dentro Così se ne va Il bomb mill Così se ne va Oh Adesso qui dentro C'è soltanto Il materiale Che va a lavorarsi E quelli Che dovremmo Lavorarci noi E come potete vedere Stanno aumentando Sì Indubbiamente Mentre A controllo Di qua Non ci dovrebbe essere Perché ci sei tu Che cazzo Ci stai facendo qui La cosa Tanfa Vediamole Osserviamole per 5 secondi 3 3 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 3 3 Mi sa che sono quelle vecchie queste Ehm Crushed No Come è Crushed No Ehm 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 Ok Signori È venuto il momento Della lavorazione Dei materiali Ehm Ehm Devo aprire una grossa parentesi La parentesi però la facciamo a casetta nostra Dov'è casetta nostra? Casetta nostra è qui Sì È questa Giusto Allora Stick Abbiamo soltanto 3 stick Ehm Facciamoci un martello Hammer Datemi un martello Cosa ci Tasi tu ha fatto le Le forbici Non le volevo fa' Ok 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 Adesso possiamo tornare indietro Effettivamente potevo farlo prima Però va bene Perdonatemi lo stesso Ehm Andare qui Vi faccio vedere Una cosina Allora Vi faccio lo spiegone Se io metto Un Broken Iron Hore Dentro Al Ehm Cazzabubbolo Della Tinker Mi esce fuori L'equivalente Di Totto Lingotti Se ne metto 4 Se non sbaglio Comunque sia Questo qua È un lingotto Ok Molto bene Se io Effettivamente Questo qui Lo faccio Lo lavoro Faccio questa cosa qua E lo metto dentro al Pulverizer Scusate anche Come la Tinker Anche il Pulverizer Me lo raddoppia Mi da due lingotti Ehm E così via Per tutti i tipi di polvere Cioè nel senso Ogni volta Va nel Nel Pulverizer O nella Tinker Si sdoppia E poi lo mandi nella fornace O nel caso della Tinker Lo mandi nella formina Del lingotto Ma 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 C'è un ma Se noi facciamo questo E adesso mi allontano Se no gli Hopper Me li inculano E lo Crashiamo con un Hammer C'è la remota Possibilità E l'avete vista In diretta Che invece di darci 4 Crash D'Iron Ore C'è di Una in più Credo che sia Un 25% Alla stessa Identica maniera Se rompiamo Un Ore Sand Ci potrebbe dare 5 Polveri Invece che 4 Va da sé Che noi abbiamo Guadagnato Queste qui diventeranno Due lingotti Polverizzandolo E poi Fornaciandolo Ma abbiamo guadagnato Uno 0,25 E uno 0,25 Considerando poi Che Oddio dove sta Che questo qui È La fase La fase successiva Possiamo guadagnare 0,50 A botta A meno che La mia Matematica Non faccia davvero cagare Ed è possibile Questo Quindi Noi non vogliamo Fare Come Avevamo fatto In precedenza Cioè come ho fatto In precedenza A telecamere spente Ecco perché le accumulavo Ma vogliamo Crasciarle Soltanto che Crasciarle È un grandito al culo Ve lo posso assicurare Ah ovviamente Questa non si può più Crasciare Maledetta primavera Per farvi vedere Cosa succede Vabbè no Senza che Lo sapete che succede Non vi serve Questa cosa Che cosa Che cosa intendo fare Intendo autocraftare Gli hammer E rifornire Una speciale Zona di lavorazione Che è questa qua Tadam Molto bene Ora però Avevo fatto i conti Senza loste Perché Gli hopper Inculano parecchio Inculano un bel raggio Quindi forse Voglio distanziare Questa fabbricuzza Tanto così Fando 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 Prendiamo I bricks Come segnaposto Diciamo Andiamo a vedere Che succede Se L'allargo Parecchio Mi sa che Non ci stiamo Infatti andiamo a cozzare Contro questa Accidenti Accidentaccio L'altra alternativa Qual è Mio buon Marcus È Farla così E Erigere un muro Eh Si potrebbe fare Dai Va bene Ok Mi avete convinto Bravi Bravissimi Allora Primo Step Energia Dov'è l'energia No non è questa L'energia Spunta da qui Perfetto E visto che la cosa sarà alquanto complicata Non mi va di attaccare le cose Ma faremo L'energia visibile Oppela E oppela Nel caso in cui ci avessimo problemi Dovremmo sfondare Il soffitto E non so che cosa c'è qua sopra Che c'è qua sopra? Ah c'è proprio il pavimentozzo nostro Figo Ok Wappala E wappala Per questa simpatica avventura Ci serviranno Un botto di Cyclic Assemble Tipo 27 Ah fatemi vedere però Se ce l'ho Perché se ce l'ho È uno spreco farne troppi Allora Pulverizer Non ci interessa Vibra il mio telefono Chi ci scrive? Andiamo a vedere Controlliamo Non ci riusciamo a stare Se no Ok va bene Fabio Ok vabbè Riuscivo E Cyclic Assembler Ne ho davvero pochi 3 No 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 Non ci interessano Ne prendiamo quindi abbiamo detto 27 Sì 27 lo scrivo qui Cyclic Assembler Cyclic Non mi dica che non ho fatto la resaip Come si scrive? Cyclic Cyclic Non ho fatto la resaip Ma sono un brutto pacchissimo Mi preparo tutto E poi non mi preparo la resaip Ma che schifo Cyclic Cyclic Assembler For me Mi serve il copper Della termaltacitua Sì copper Copper Amore Mi fai una cortesia? Mandi quel messaggio di cui dicevamo prima A quella persona di cui dicevamo prima Altrimenti tipo Parapem Grazie Voi non sapete assolutamente di cosa sto parlando Però va bene lo stesso Cyclic Assembler Vediamo un po' Ecco qua Grazie Noob per il tuo supporto Infinito E facciamo 20 tette Cyclic Assembler Si bloccherà? Non si bloccherà? Si è bloccato Andiamo a vedere che c'ha sto tizio Che vuoi? Ah le Team Gear Non sai farle? Ah è vero Gli ho fatto fare le Invar Gear Team Gear Dai Dai Proponimi il Team Della Thermal Dai Vabbè Ah Team Eccolo qua Via Ci mettiamo questo 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 E questo And good E Gli lo sbiattiamo dentro Adesso dovrebbe andare A manetta Perché effettivamente il crafting è molto semplice Pim 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 Pini pim 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 Molto good 27 8 No 7 Quanto è veloce Incredibile Poi lo posso pure aumentare Ok Cyclic What's American Boys Andiamo A impostare Dico impostare Dove Dove lo stiamo impostando? Qua Eccoci qui Salve Salve Benvenuti Ci mettiamo il nostro Cyclic Assembler No Ce lo mettiamo Qui Un altro Lo mettiamo Ce l'ho spazio sopra? Sembrerebbe di sì Qui Qui Non riesco a saltare Non riesco a saltare Qua Qua Qui E qua da qui E patapen Vediamo quanti sono Sono 1 2 3 4 5 6 7 Che cazzo di preciso che sono È incredibile Ok Ragazzotti belli Io ho già fatto 27 Precision Export Boss E un botto di cavi Della Applied Perché? Ma è molto semplice Perché devo Vieni qui Portarli Di qua Un secondo Rieccoci qui Facciamo così 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 E poi magari Controllo se sto a linea Sì Ci sto Ci sto Ci sto Allora Patapim 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 Patastracht Is What's American Boys Perfetto 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 Dunque Questo qui È lo step Semplice Perché? Perché Non ci serve Altro Che scendere Un attimo Quaggiù Maledetta Primavera La 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 E prendere tutti I broken Ora Visto che io non ho spazio Mi vorrei Craftare qualcosa Per tenere Bag Oh mio dio Oh mio dio Ma quanti cazzo sono Mamma mao Vi faccio un'altra Bag of holding Che cos'è questa? Che carina A che serve? Beh Bene Bene Ehm No Mi serve Mi serve Mi serve Spazio Ultima frontiera Va bene Dai ci siamo Ehm Cio 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 Allora Tutti i broken Perfavore In unità Da quattro Quindi va bene Così Però così Me li sposta Il bastardo Non so perché Mi dà un fastidio Cane Quaccio 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 Questo l'abbiamo preso Questo lo prendiamo Questo Lo prendiamo Come disse cicciolina Questo lo prendiamo Quattro anche di questo E giuro che ho fatto Giuro 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 Ok Allora Un'altra cosa che devo da prendere Sono le schematics Però dovrei averle Non le ho fatte Perdono Per quel che ho fatto Ho fatto io Però chiedo Scusa Regala Mi sorriso Io ti porgo una rosa Perché sto a memoria Una canzone di Tiziano Ferro Perché un mio collega Mi costringeva a sentire RDS Schematics Si fa con la paper E però Gli dobbiamo dire anche Che come si fa la paper Si fa con la carta No Si fa con Il Canna da zucchero Ok Schematics Me ne servono Ciccio bello Indovinate un po' Oddio forse no 27 No mi sta di meno Vabbè facciamo Un 9 18 Si Facciamoneci 18 E crepi la valizia Primp Pimp 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 Perfetto Cosa sto andando a fare Mi sto prestando a fare Questo Una cosa che ho sempre cercato di evitare In questa serie Ho provato in tutte Tutte le maniere Ma non ce ne riesce Per forza dobbiamo usare O questo O la fornace Gli dobbiamo dire Ciccio Fai così Insegnati Questa Recipe Che adesso diventa questa qui E a te Importa tutto questo Dovremmo vedere arrivare Il broken iron E lui crea L'iron Or Gravel Ogni volta che Si genera da quell'impianto là Un altro Broken Entra qui dentro E si autocrafta L'iron Gravel Ottimo Lo faccio per tutti Ta da Fatto 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 Dentro ognuno di questi C'è La corrispettiva Gravel E arriva Dal nostro impianto Il pezzo rotto Buono 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 Onesto Adesso Mie cari amici Portiamo L'elettricità In avanti Di uno Ma anche più di uno Ma anche più di uno Sbragati 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 Sbrimft E sta sfroschi Molto bene Ciao Tu che cazzo fai qua Via Levat Levat Già ho finito i cosi Mamma ma Quanto mi costa Sto impianto Ok Autonomous Activator Where are they Eccoli qui Allora Li mettiamo qui Watch up Watch up Watch up Watch up Watch up Ehi wei Watch up Watch up Ottimo E dobbiamo purtroppo Ogni volta settargli Che questa qui Non è l'uscita Ma è l'entrata Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Ho messo questo Perché Questa è gravel È considerata gravel Quindi soffre della gravità Oh gravità Perché mi fai questo Basta gravel Vattene Non voglio più avere niente A che fare con te No gravità Ti prego Mi fai soffrire Va bene Questa era molto bella Eh Vi è piaciuta Scusate Ok qui sopra Ci spuntano i mob Spunta un mob Dal monte La sulla playa Na 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 Niente ci vedete di metterci Una bellissima Eccola qua Una bellissima Eccola qua Ora Quello che dobbiamo fanno È mettere 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 Però non voglio farlo Immantinente Con il corpo e con la mente Voglio farlo Di Di già avviato Quindi ragazzotti Andiamo per un secondo A fare qualcosa di provvisorio Il tanto che basti Per concludere questa puntata E poi No No Non funzioni Perché non ci sei Qui Eh Se ci fossi Eh Eh Così tanta Ok d'accordo Eh Che sto cercando Ah Sto cercando un elevator Vediamo un po' se ce l'ho No No Ok Eh D'accordo Oh mio dio Ma qui che cosa Un bauco Allora io mi anculo questo No Stupido A me chiappa Vai Ok 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 Andiamo Perché non Non corro Ah Perché ho fame Ho famissima Mangiamo del food Si chiama Magical food Magical food Che corri felice Che dove arriverai Lontano Ma mangiamoci pure questo Ma che ce frega Ma pure quest'altro Ok ottimo Dunque 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 Che cazzo stavo facendo Ah si 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 Eccoci Qua No 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 Troppo Ma Ah ma io volevo scendere Scusate Che sciocco Ok Perfetto Vedete che non ci sono più Le mezze stagioni No non ci sono più i pezzi broken Ottimo 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 Allora andiamo un attimo a casotta Con il teletrasporto Ora Eh ma tacci tua E andiamo a chiedere All'auto Al signor autocrafting Oppela Di farci Dei martellozzi Clare Quali martelli ci possiamo fare Perché abbiamo Cobblestone infinita Abbiamo un sacco di ferro Però abbiamo anche tanti diamanti Forse quelli di ferro Non lo so Ci sto pensando Pensiamoci Sul reeducational channel Cobblestone Hammer 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 Gli mettiamo Ovviamente L'area hype Con lo stick Perché altrimenti Viene una cagata mostruosa Altrimenti Non ve lo fa proprio Stick Stick Perfetto Ed ecco l'autocrafting Del lam Molto good Allora Purtroppo L'uplied Manca di una cosa Fondamentale Ovvero Un sistema Di Supplier Cioè di supporto Non lo so se Supplier è proprio Supporto La traduzione Però è il supply Della Della Logistic pipe Che gli dice Io voglio 64 Pezzi O 32 O quanti X oggetti X numero Di quell'oggetto Là Dentro un inventario Se non ce l'hai Craftatelo Mentre lui Niente Non solo Crafta Sto stronzo Se voi gli dite Infatti di esportare Un oggetto Che però Non ha Nella disponibilità Non è che lo crafta Se può farlo Mi dispiace E' così Quindi noi ci facciamo Mamma mia La roba Ci facciamo Visto che abbiamo Tanto legno E tanto stick Io direi Un 10.000 martelli E' un numero Un po' spropositato 10.000 martelli Effettivamente Ora che ci penso Però Va bene Dai D'accordo 10.000 martelli Ma sono fatto scocciato Porco Giuda Ok Sai quanto cazzo Finisce Ok 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 In questo caso Io voglio Mandare dentro All'ender chest Quella rosè Ve la ricordate? Quella della precedente puntata Ovvero L'ender chest Di di là Che però Non si trova Sebbene ne avessi fatte 9 Addirittura 9 Qui non c'è Maledetta primavera Ender Craftane una Va bene Intanto le pecore dentro l'acqua Tipo esplodono Ehm Facciamo così Prendiamo Un Import Vattene a pesca Come si chiama? Dov'è? Dov'è? No 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 Un export ho detto Cioè ho detto import Però intendevo export Giuro Già sono finiti Ammazza che pacco Incredibile Buzz Vediamo se facciamo buzz Eee Import Cioè solo Solo l'import Ragazzi Adesso Che cacchio fa Se io gli chiedo due cose diverse Si intoppa Me ne servono tante tra l'altro Me ne servono almeno 9 9 9 9 9 Vediamo Vediamo che fa No Ah ok Prende questo crafting qui E smette quell'altro No questo continua No aspetta aspetta Ti faccio Ti interrompo un secondino Velocissimo Già me l'ha fatto quell'altro No Lo sta fanno Oddio santo Import No export Export Ah si è interrotto tutto Ok Fantastico Adesso me lo crafti Bravissimo ciccio Quanto sei veloce Brrrr Meraviglia 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 Delle meraviglie Dai Namio Veloce Su Avanti Forza Ok Ah Mo si è messo a coce questo Coci me lovo Vabbè comunque Import No ancora costo import Export Eccolo qua 9 e a sto punto Aspettiamo il 10 No non lo aspettiamo Pappappero Facciamo Così Stack E intanto Mi chiama la madre di Valentina Che accorrerà sicuramente A rispondere al telefono Mentre io Lo spengo No Hammer Prendiamo i 472 Hammer Che abbiamo fatto E li infiliamo Dentro l'altro sistema Eccoli qua Wosh Ottimo Ora Ovviamente Io vorrei renderlo autonomo Ma Purtroppo Come ho già detto Sti cazzo di Hammer Non si Armano da soli Quindi adesso Ci facciamo fare Effettivamente Un Un 500 stick Che dovrebbero essere 250 Martelli Però Sono lenti Sti stick Perché sono lenti Non ha già la legna Forse Wood Eh no Non ce l'ha Deve consumare questa Picchieto 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 Lo manderei dentro Un suo mille Della cosa Per ottenerne Il doppio Però Però no Ok Ok Possiamo tornare di qua Non prima però Di esserci scordati Di prendere L'altro Export Buzz Molto bene Ma tu pensa Ce l'avevo nell'inventario Veloce 27 Va bene Tanto non vanno sprecati Non vi preoccupate Comunque faccio ridere La mia distrattezza Allora Cerchiamo di salire Sopra Al groviglio Di Murda Non ci riusciremo mai Fantastico E Facciamo Poniamo I nostri Import Eh scusate I nostri Export Buzz In questa maniera Quas In questa maniera Quas E in questa maniera Quas Ok E qui viene La prova del 9 Perché se non funziona Non so che pesci prendere Perché Dovrei trovare Un'area più grande E dovrei Ricostruire tutto questo E sarebbe un gran peccato Ok Allora In primo luogo Ci servono I vacuus hopper In secondo luogo Vorrei utilizzare Il bellissimo vetro colorato Il vetro Il clear glass Per avere sotto controllo La situazione Quindi fare Qualcosa Di questo tipo Comprie erba Perché C'ho paura Che i miei Hopper Vicini Si inculino Le cose a Vicenza E questo Non va bene Assolutamente Non andrebbe bene Sto facendo Questo impianto E poi Giuro Che mi metto A pescare Giuro No Ecco Vedi Ha inculato subito Il vetro Il bastarda Ah ma se Io lo tiro qui No Eh va per forza Da lui D'accordo D'accordissimo Super d'accordo Intanto Se incula le torce Ammazza Che inculone Che è sto Vagus hopper Qua sopra Non dovrebbe passare Perché poi Metteremo il ciccio Scusate Un secondo Che io faccio Un po' Di pulizia Qua Così siamo Un po' Più larghi Rompiti 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 Ok E dai Lo sistemo Tutto quanto Tadam Bene 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 Benissimo Allora Altra cosina Che dobbiamo fare È vedere qui Eccoci I martellozzi Prendere un bel martello Infilarlo Qua dentro Dirgli Prendi stack E poi andare a copiare Questa resa Perché non ci va Di fare le cose Troppo a mano Shift Tasto destro E poi tasto destro E basta Whippy Pityum Whippy Pityum Whippy Pityum 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 E pityum Ottimo Ora Uniamo I cavi Stando attenti A non Unire i flussi Ragazzi Non unite i flussi Oppela 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 E ce l'abbiamo fatta E adesso prendiamo I nostri Autonomous Activator E speriamo che Dio ce la mandi buona E possibilmente Without mutande Come si picchia con le cose Con il sinistro Signori ci si sta provando Ci si riesce Ci si riesce Ci si riesce Bello 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 Ma è bellissimo Non ti mettere storto per favore Oh Ah perchè sto coso Mi incula tutto lo spazius Vieni qui Bastarda Ah ok No 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 Fantastico Vediamo Oh ma che meraviglia Dove credi di andare Bastardissimo Avete visto Vabbè dopo questa paratia Sarà continua Quindi non ci sarà questo problema Però è proprio un inculone Sto coso Ok facciamo la stessa cosa A tutti Ah musica Musica per le nostre orecchie Meraviglioso Meraviglioso Bellissimo E ovviamente Adesso stanno finendo la loro grande scorta Ma Eccola qui La possiamo vedere qui Eccola 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 Ma Ne arriverà altra Quindi Wow Ok Altri cyclic assembler Tesori miei Perché qui L'affare è lungo E' lungo E' lungo Cristo santo Siamo ricchi Ricchissimi Siamo ricchi Ok Cyclic assembler Io giuro Che ce li ho Eccoli qua Infatti Facciamo un altro Piccolo pezzettino Oppela Oppela No 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 Oppela Oppela Sapete che Sprecherei di meno Facendo di qua Però mi serve Quello spazio Vabbè sti cazzi Ma che sto ricco Cazzo Mi frega Ok E Vai col cyclic Assembler Ah però Prima Altrimenti non ho più spazio Diciamogli Ehi Ho detto Diciamogli Ecco qua Di buttarli dentro Voila Anche Eh no Se lo rompo Aridammelo Aridammelo immediatamente Ok Questo è A differenza di tanti altri Dal lato dove lo vedi Devo dire che il Vagus Hopper Mi piace molto 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 Avete visto l'arrivata della roba? Mmm Ottimo Oh il ferro è proprio quello che arriva in più grande quantità Comunque Come dicevo Dobbiamo rifare Una bella fila Di cyclic Assembler Opla Gli Hopper Metteranno automaticamente Dentro La roba crashata Oppelum 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 E voilà Ottimo 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 L'energia c'è Quindi dobbiamo soltanto fare la Recype Semplicemente Facendo così Così E così E lui la crafta Fico 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 Penso a mettere tutte le Recype Ovviamente io Ok Messe tutte Alla stessa maniera Ma in maniera un po' differente Il che è effettivamente Un ossimoro Vi devo ricordare che Oltre a La presenza Cioè Oltre al fatto che questo Abbia crashato Il Vediamo se ce n'è qualcuno Il Broken E abbia prodotto Il Crushed Iron Beh noi abbiamo anche il Crushed Iron Che viene dalla lavorazione diretta Quindi questo qui è una quantità maggiorata Quella lì no Però niente ci vieta di utilizzarla Quindi Oppela Oppela Come al solito ragazzi Ricordatevi che L'unione fa la scorsa E il coso maledetto Si è inculato il mio Assembler E il coso maledetto Se l'ha inculati tutti Perché questo è Pre-Configured Di che cosa sei Configured Niente Va bene Voilà Ah non riesco a saltare È vietato Ok Ok E ok Ottimo 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 Andiamo di cavi In questo caso faccio sto giretto qui Perché mi conviene In senso Biblico No mi conviene In senso che Penso Sprego meno cavi Ok E anche in questo caso Devo fare Così Così E osserveremo Arrivare Tutto il maltolto Che viene dal resto Dell'impianto Quindi Anche Per il signor Copper Mettiamo Stack mode Siete che faccio Metto stack mode Lo imparo Poi Poi glielo insegno Pino insegno Così devo fare un passaggio in meno Che culo C'è un crushed Eccoli qua Qui c'è un cavo Grazie Mandiamo il goldone Perfetto Sta arrivando Qui c'è il silver Anche il silver arriva Abbiamo Il nickel And the The Hero Be Se Best Ah no Quelli sono i nickelback Scusate Questo è gold Sì Vai così Alla grande Sei proprio buffo Quando sei votante Questo l'abbiamo fatto No Chi sei tu Sei l'alluminio Fai schifo Però ti faccio lo stesso Quasi per dovere di cronaca Questo è Lead Lead serve come il pene Disse Cicciolina Qui abbiamo il tin Heroin tin tin E dovrei aver fatto Dovrei aver fatto Ammazza che stress Ragazzotti Io Ho le mani Che mi trema E gli occhi Che vanno a fuoco Quindi penso di aver registrato Abbastanza Abbiamo Stiamo vedendo Bene o male Com'è l'impianto Beh No È una cazzata E Noi ci vediamo La prossima puntata Dove lo completiamo Signori Questo è un impianto Della È un impianto